In questo video vedremo come accedere ai contatti della rubrica, come comporre un numero e chiamare un contatto memorizzato, come rispondere e terminare le chiamate, come inviare e ricevere SMS. Dopo aver abbinato il telefono, premere il pulsante Telefono sul touchscreen per accedere alla relativa schermata. Per cercare un contatto nella rubrica, toccare il tasto Funzione Contatti. È possibile selezionare un contatto in due modi, cercando dall'elenco o immettendo il nome. Per cercare dall'elenco, utilizzare le frecce di scorrimento per spostarsi su e giù tra i contatti. Toccare il contatto desiderato per selezionarlo. Per trovare un contatto per nome, immettere il nome richiesto sul touchpad alfanumerico del touchscreen. Quando viene visualizzato, selezionare il contatto desiderato. Per immettere un numero conosciuto, selezionare Tastiera e inserire il numero sul touchpad visualizzato. Toccare l'icona verde di connessione per comporre il numero. Durante la chiamata, il pulsante cambia nell'icona telefono rossa. Selezionarlo per chiudere la chiamata. Quando si riceve una telefonata, toccare l'icona telefono verde per rispondere. È inoltre possibile utilizzare i comandi sul volante. Per effettuare la chiamata, premere il pulsante del telefono. Quando si riceve una telefonata, premere il pulsante del telefono per rispondere. Per riagganciare, premerlo di nuovo. È possibile regolare il livello del volume utilizzando i tasti più e meno del comando sul volante o ruotando il comando del volume sul sistema multimediale. Il sistema telefonico consente di accedere al servizio SMS del telefono, toccare Messaggi per visualizzare la casella dei messaggi e scrivere un nuovo SMS. Attenzione! È possibile scrivere e rispondere agli SMS solo quando il veicolo è fermo. Per ulteriori informazioni su queste e altre funzioni, consultare il manuale dell'utente. Per dubbio o assistenza, contattare il concessionario Jaguar Land Rover che sarà ben lieto di aiutarvi.